crash e questo è crash non mangi il biscottino l'hai preso o no? vuole le coccole vuole le coccole? si saluto a tutti saluto a tutti e dice a tutti che stai cercando una famiglia crash, crash vieni adesso sta bene non ha più problemi con la zampetta crash vieni bravo bloccalo crash 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 vieni qua chi è? saluta sede ancora un po' la zampetta gli dà fastidio però sta bene il biscottino non lo vuole quindi? no no crash sei stanco? sei già stanco crash? sì? fermo fermo fatti vedere crash robbie fatti vedere quanto sei bello adesso Gio Marco ti mantiene fermo piccolo crash piccolo crash vero che Gio Marco ti mantiene fermo? sì ma che bello taglia meglio piccola sarà 12 kg eh? sì è vero Crash? sei carino allora noi vi salutiamo vero che vi salutiamo? e andiamo a fare il video che lo portiamo dal dottore ciao